Il futuro è già in cantiere, questo è lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale del candidato sindaco del centro-sinistra al comune di Andrea Sabino Fortunato, che ha inaugurato in Corso Cavour la base elettorale, fermare il declino a cui Andrea è stata sottoposta negli anni dell'amministrazione Giorgino, tra promesse disastese e debiti accumulati. Spese folli e scriteriate ha sostenuto il candidato sindaco del centro-sinistra, che hanno portato ad una conduzione spregiudicata dalla macchina amministrativa. La visione del professor Fortunato è quella di un cantiere di idee solide e concrete per far ripartire Andrea dal miglioramento della gestione della raccolta rifiuti, fino ad arrivare ad un nuovo contratto con la ditta Sangalli per favorire i cittadini che fanno la raccolta differenziata. Non solo una sala gestione dei rifiuti, ma anche un occhio particolare all'agroalimentare, che resta, ha spiegato Fortunato, una risorsa fondamentale dell'economia cittadina. Buona la presenza dei sostenitori della coalizione all'inaugurazione del comitato di Fortunato, tra i più attivi a sostegno del candidato del centro-sinistra Antonio Griner, che correrà alle prossime elezioni amministrative nella lista del Partito Democratico. Usciamo fuori da cinque anni di malgoverno cittadino del centro-destra, abbiamo sotto gli occhi di tutti un disastro finanziario e ancora oggi si continua a parlare di numeri, di dati, di cifre e di verità. Oggi nessuna verità ancora è stata fatta dal nostro sindaco Giorgino, anche sulla questione rifiuti. Non sta parlando invece della cosa più importante, cioè di questa eredità di oltre 30 milioni di euro di debiti che purtroppo la nostra città e i nostri cittadini dovranno pagare per i prossimi anni. Noi immaginiamo una città più importante, più solidale, aperta a tutti quanti. Abbiamo in mente di organizzare ma anche di creare un'azione molto forte nell'ambito dello sviluppo economico per le nostre attività. La nostra economia purtroppo è stata mortificata in questi anni, nessuna iniziativa concreta è stata fatta a sostegno delle nostre imprese. Quello che vediamo di buono nella nostra città è solo ed esclusivamente da poter ringraziare i singoli imprenditori che hanno deciso di investire. La pubblica amministrazione non ha dato nessun supporto valido per le nostre imprese. Ci aspetta una grande sfida a Chiosato Fortunato, siamo pronti a riprenderci il governo di Andrea.